Facciamo la nostra esibizione con un brano molto famoso di musica leggera. Heal the World è una canzone del cantante statunitense Michael Jackson, estratta come settimo singolo dell'album Dangerous del 1991. Il video musicale della canzone è caratterizzato da bambini che vivono in paesi che soffrono di disordini. Michael Jackson ha eseguito la canzone al Super Bowl davanti a 35.000 persone, facendo l'audience di ascolti più alta di sempre nella storia delle televisioni americane. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.